amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano di fanta calcio come sempre grazie a collaborazione di fanta lab andiamo ad analizzare i giocatori consigliati per la giornata numero 27 ci avviciniamo a larghe falcate verso la fine di questo fanta calcio stiamo già lavorando per il prossimo ma è importante concludere meglio la stagione in corso per questo motivo analizziamo grazie a fanta lab questi indici di scalabilità e la loro analisi prima di partire come sempre vi ricordo di collaborare con il veterano grazie a un like una condivisione sottoscrizione e attivazione campanella i giocatori sono 10 più 1 li vedete qui in grafico e sono davvero molto interessanti okoglia in porta poi di lorenzo cagliudeo all ma in difesa pellegrini off to cheek mkhitaryan e suslova centro campo con niang vlaovic e su lei ma come abbiamo fatto ad analizzare questi giocatori per quale motivo vedete qua indici di scalabilità li vediamo con analisi più approfondita grazie a fanta lab su un giocatore del verona giocatore slovaco che è un ottimo giocatore come offensivo e quindi per questo motivo va schierato ma soprattutto ha un ottimo a media voto e fanta media voto contro le squadre di medio basso livello sull'uso vlaovic rigorista alta frequenza di bonus l'off to cheek è in un periodo di forma importante i risultati del mila contro la razza sono importanti e di lorenzo ottimo a media voto e fanta media voto nelle ultime cinque ultimo invece occoglie contro la sedentano un match alla sua portata difesa dell'unilese sicuramente interessante questi altri consigli trovate su fanta lab come sempre consiglio quello di passare anche in live grazie al veterano che vi consiglia direttamente su fanta lab utilizzate appieno questa piattaforma e questa app davvero entusiasmante vi ricordo ancora la che sottoscrizione e attivazione campanella un abbraccio a tutti voi e buon fanta calcio ciao ragazzi